Il Carnevale di Foiano viene abbracciato dal Valdigliana Outlet che ancora una volta sposa le iniziative del territorio. Noi abbiamo un programma che è strutturato su tre fine settimana, quindi sabato 16 si inizia con un cosplay contest ed una cartoon merchant band, quindi tutto un mondo ispirato ai cartoni, ai fumetti, alle sigle dei cartoni animati. Insomma ad una manifestazione di gioia e di colore, che è proprio quella tipica del Carnevale, per poi arrivare a sabato 23 con la gara mascherata dei Cantieri di Foiano, quindi in questo caso proprio una parte delle iniziative del Paese che arrivano e si esibiscono in Outlet, per poi chiudersi domenica 3 marzo con Oreste Castagna e il Bumbi Live Show, quindi una manifestazione di Rai Oio che ospitiamo per i più piccoli all'interno dell'Outlet. E poi una grande mostra su quelle che sono le abilità e i colori di questo Carnevale di Foiano della Chiana, che è appunto una mostra fotografica e di costumi dal 1900 ad oggi di quello che è appunto il Carnevale più antico d'Italia. È una collaborazione che si consolida, è una collaborazione sempre più forte, è una collaborazione che dà dei risultati sempre più importanti, quindi grande soddisfazione perché ci permette di lavorare insieme, di condividere aspetti importanti, in questo caso il nostro Carnevale, 480esima edizione del nostro Carnevale, oserei dire tanta roba. Abbiamo rinnovato il sito, quindi carnevaledifoiano.it, potete trovare tutte le informazioni, potete trovare un sacco di contenuti anche storici e quindi vi consiglio di consultarlo perché è interessante, siamo orgogliosi.